Salve a tutti i nipoti, sono lo zio e oggi parliamo di ICR. ICR è l'ultimo sistema Apple per chi non lo sapesse. Chi lo conosce invece sa già che è pieno di bug. L'ultimo, che non è neanche l'ultimo, è il problema riscontrato da alcuni utenti che riguarda l'accesso all'utente amministratore senza immettere nessuna password. Questo bug è stato corretto, nessun problema. Negli ultimi giorni si è sentito parlare del simbolo indiano, per esempio. Anche quel bug lì era presente nel sistema OS X e di conseguenza hanno subito preparato una patch e quindi corretto anche quel problema lì. Quello che ancora l'Apple non corregge e che purtroppo in molti non riescono a risolvere è la questione che si viene a creare durante una normale formattazione da chiavetta buttabile, ovviamente creata da sistema. Mi spiego meglio. Capita che ICR non riconosca l'hard disk che sia SSD o normale disco classico. Il perché di questa cosa onestamente non mi è chiara, però esiste una soluzione e adesso ve la vado a spiegare. Innanzitutto se proviamo ad andare in utile di disco e quindi cercare il nostro hard disk nel nostro caso, non c'è. Riconoscio ovviamente la chiavetta USB con il sistema operativo pronto, ma non vede nulla. Quindi noi cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo andare in utility, terminale, che non è altro che la versione prompt dei comandi del sistema macOS, e scrivere semplici righe di codice, ovvero tramite il comando diskutil list, andiamo a vedere esattamente tutti i dischi presenti nel nostro Mac. Nel nostro caso andiamo a cercare quello con la capacità più grande, un SSD da 250 GB, e lo identifichiamo come disk0. Una volta che sappiamo che il disco si chiama appunto disk0, andiamo a cancellarne appunto il contenuto. Quindi andiamo a fare la formattazione da terminale tramite il comando diskutil rsdisk. Andiamo a utilizzare il penultimo tipo di file system utilizzato nei sistemi Mac. Diamo un nome al nostro disco e andiamo a selezionare appunto il disk0. Il sistema tramite terminale inizierà a cancellare il disco, ovvero lo smonterà, che è la partizione, lo rimonterà e quindi andrà a creare la partizione journaled, monta nel disco e alla fine avrà finito. Fatto ciò, possiamo uscire dal terminale, recarci in utile di disco per essere sicuri che il disco effettivamente ci sia, e di fatto c'è. Io, poiché sono molto pignolo, nonché rompicoglioni, lo reinizializzo togliendo l'underscore che ho dovuto inserire per questione di riga di comando. Come vedete si è formato anche da qui e ha fatto lo stesso passaggio che ho fatto io, però utilizzando l'interfaccia grafica. Così facendo, andando in installazione Mac OS, ovviamente il disco è presente e potremo così installare Mac OS ICR. Cari nipoti, questa guida spero possa servire a molti, perché onestamente su YouTube non penso di averne viste, trovate di questo tipo. Un'altra guida interessante, alla quale vi lascio praticamente il link da qualche parte sulle schede o in descrizione, è come risolvere un problema simile legato però all'orario del Mac. In quel caso, più che altro è per i MacBook. Anche per oggi è tutto, io vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto, lasciate un like se il video vi è piaciuto, e così mi supportate. Ciao e alla prossima! Grazie! 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 Grazie!